mi trovo in via arcavur sono davanti alla ex caserma dei carabinieri questa mattina passando ho notato qualche coccio di bottiglia rotta sono le 10 ho avvisato chi di dovere i vigili urbani che devono mandare a pulire prima che qualcuno si faccia male qui basta passare mettere un piede sopra che ci si taglia comunque di gente incivile in città ce n'è tanta tutta gente che fa di tutto per affossare ancora di più questa città non so io certe cose non me le spiego vabbè vedremo poi